Una festa privata in una villetta di Castelfranco piandiscò alla quale partecipavano sette giovani, tutti tra i 20 e i 30 anni. Questo quanto scoperto dai finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno anche trovato e sequestrato 50 grammi di hashish. Tutto è partito dalla segnalazione di un vicino che denunciava la festa del tutto abusiva. Allora arrivo i finanzieri hanno così sorpreso alla festa sette persone, ma non solo. Durante gli accertamenti le fiamme gialle hanno trovato l'hashish ben nascosto all'interno di un contatore elettrico ed alcuni bilancini di precisione. Per quanto riguarda i due ragazzi residenti nella villetta, per uno è schiattata la denuncia all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre per l'altro è stata interessata la prefettura di Arezzo per i profili amministrativi quale consumatore. I cinque ospiti presenti alla festa infine sono stati sanzionati per l'inosservanza dei provvedimenti governativi con una multa di 400 euro ciascuno.